ma perché io sono autistico perché mi fa ridere la parola gufo ma perché io sono autistico a caccia ah già 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 giusto allora allora stagione ok episodio 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 1 ah sì 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 è vero me lo ricordo misaggio gufo fammi il gufo che devo pagare la sapo stolas è una civetta è un barbagianni stolas qua che cazzo è successo piantatura di walking dead oh no adesso ragazzi muore qualcuno eh tira fuori le ermi tira fuori le ermi porca puttina porca puttina bravo nano tira fuori la gun apri lentamente con un calcio non so quanto con un calcio non so sicuro quanto possa essere it's clear dipende magari si sono nascosti mi pare strano mi pare strano magari siamo in danger erano anche qua poco fa perché il cammino è ancora acceso ah un bolognese è un bolognese con delle pagine della bibbia è letteralmente un bolognese qualcuno si sta fumando le bibbie qualcuno si sta fumando le bibbie in questo posto dobbiamo stare attenti oh fief non ci sono non ci sono non ci sono infif ma questo è cazzo cazzo ma c'hai brodo cosa è successo brodo brodo conosci i lili brodo tu sai tu sai o è troppo agitata brodo non ho idea però brodo io ero un po' troppo agitato agitata e si che e si vabbè di cos'è fatta di compensato quella mappa cos'è fatta di cartone e cos'è è un sasso è dei flimstone è una tavola di granito che cazzo madonna quanto rigida andiamo dalla stazione dei cazzi è il tavolo del monopoli potrebbe essere sposo un po' di roba ma perché è praticamente cioè non è più o meno ci sono meglio le the way racconta la storia di altre persone ci sono anche dei collegamenti con la serie tv tra l'altro abbiamo trovato glen all'inizio jesus dopo il problema è che ci sono un sacco di metallari ubriachi facciamoci violetta non so se voglio fare la lella devo ancora decidere chi mi scopo sì in realtà sono andato qua cinque minuti nel senso eh sì sì perché siamo nello stesso universo per forza walking dead è tutto nello stesso universo fatte attiriamoli attiriamoli con la campanella ding on down dimmi testa fusillo mi dispiace sei anche un ragazzo carino però sei inutile cioè non serve a niente quindi sei tu la persona che se muore perderemo sostanzialmente meno in termini qualitativi per cui grazie grazie evita lo sciame lo sciame ma che cazzo sono delle api lo sciame sono degli verg lorda come lo sciame ma si è sempre si è sempre chiamata lorda cazzo è lo lo sciame ma come lo sciame ma andria ma l'orda ma loro sciame sono abbastanza sordi l'orda che balle uffa questa gente che vuole ingropparmi da dietro la Caffanculo! Sono sordi, non scechi. Ti vedono, sono letteralmente lì. Vabbè Manuel, non preoccuparti, ne troverai altri. Sono lì! Come on, come on, come on, come on! Come on, come on, come on! Sembra le campane della chiesa, che cazzo. Ding dong dong! Ok, AJ e io andremo in, prendiamo la città e fuori. Significa bene, facciamoci. Desacer o veder! Desacer o veder! Ma io lo sapevo! Ma io avevo detto che era vivo, cioè... Irlanda! Guarda lì come fa il ballo di San Vito, guarda. Ah, qua c'era sempre i due amici Fritz. Gianni Pinotto. No, scusate, potreste attirare... No, ammazzali, potrebbero attirare gli altri. Cioè, falli fuori. Ma non c'erano, non c'erano... È più grande di te quella roba, AJ. Che cazzo ci serve adesso, AJ? Eh, vai giù, devi, devi, devi parare le granate con la faccia, AJ. Quanto marca la fine... Quanto marca? Oddio, siamo all'ultimo capitolo praticamente, quindi grazie per il giro. Dai, parla le granate col naso. Ma spegni la luce, scusami. Buon lavoro, AJ. C'è più? Riso. Continua a arrivare. Continua a arrivare. AJ, sicuro che laggiù non ci sia niente, mi raccomando, eh, perché... Io mi giro, qua sicuro sbuca uno zombie, io continuo a vedere tre sic... tre. Sicuro appena mi giro sbuca un cazzo di zombie che mi fa bubussette, te... Ma infatti non capisco perché ti hai la lanterna accesa, non riesco a capire. Stand. Slowly. Don't yell. Don't try anything. I won't hurt you. Ma perché c'è un drogato che sta fumando della dinamite, scusate? Chi cazzo abita in sto posto? Perché c'è un tossicodipendente che sta fumando dei candelotti? Sì. Se non ho bisogno. Non cazzo conmi. Non cazzo con te. Non cazzo con te. Sono qui per ottenere un po' cazzo. Lo stesso come tu. Tu e i tuoi amici hanno fatto un po' di ruolo qua. Non è difficile da seguire. E i G. E i G. Spera gli! E i G. Spera gli! E i G. Spera gli! Ti sembrava un po' vecchio per essere in casa. Hai un gruppo? Conto a te, più i due in fuori, penso... ...mai più? Conto me sui gruppo prima. Mi piacciono i giorni quando eravamo all'impegno. È solo io e il mio uglosio qui qui. Lontano, uglosio... ...e freddo. Ora... ...mi freddo questo paese davvero lentamente. Abbiamo lavorato duro per ottenere questo paese. Oh, hey there! No, però... ...EJ non funziona... ...EJ dovevi sparargli però subito se volevi non puntargli la pistola... ...e poi fissarlo. Adesso... Eh, ho capito ma... Adesso è inutile... ...Adesso è inutile. È inutile adesso. No, è un suicidio, dai. È un bambino. Figurati se riesci a sparare prima di quanto spari e poi potrei morire anch'io. E poi attiriamo tutti quanti. ... No, ragazzi attiriamo... Normalmente forse li avrei sparato, ma attiriamo tutti gli zombie. Però muore AJ. Sono curioso. Vediamo se muore AJ. Sì. Sì, sì. Ma lei era troppo... ...Ero troppo curioso. Ero stracurioso. I tempi comici. Immaginavo anch'io che morisse però... Ero stracurioso di vedere come moriva. Ero stracurioso, squirt. Stiamo giocando a scendere, non? Ora, questo è impolito. Non vedi da noi. 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 Posso uccidere, sai? Vedi, figlio. Sono più rapido di te. Ascolti, squirt. Non vedi da prendere la scuola a me. E lasciarmi andare a Mary. Ti capisci? Mi assolutamente se faccio così. Agent, salta! Tu pezzo di s*****! Cosa c***o? Prendi un bagno e fissi. Morto subito. Più se l'abbiano fatto fuori. Rai, ora! Penso l'abbiano fatto fuori. Dai! Non credo sia ancora vivo. Cioè... Non credo sia sopravvissuto, raga. L'avevano preso, c***o. Come minimo l'ha mozzicato, dai. Ma c***o l'avevano preso in quattro. Cioè, per Dio, vuoi dire che nessuno gli ha tirato un mozzico? E poi ci saranno le scorte. Clem! Mitch! Check it out! Food! That's like a lot of food. Observe it as ever, Mitch. I can't believe this. Look at it. You're our savior, Clem. Speriamo! 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 Speriamo che... Non venga... Se viene viene sicuro a rompere il c***o, però... Mi stiamo giocando più lenti! Clem knew where it was. Train station? That's outside the safe zone. We'd have even more. But we ran into the creep that fucked up our fish traps. Creep? What creep? Clem saw him smoking those nasty ass Bible cigarettes. He had weird different colored eyes. Lo conoscevi? Dai, bro! Lo so che lo conoscevi. Dai, chi è? Did he follow you? Nope. I shoved him into a pack of walkers. They took a chunk out of him. It was awesome. Look, I don't know if he got out of there, but if he did, he won't make it for long. You... Attacked him? What the fuck? What the fuck? No, scusami, mi stava puntando contro una pistola, cioè... Ma poi chi è? Dai, bro, no... Chi... chi è? If he survived, you know he's coming back for revenge. What the hell were you thinking? This is fucked. If I hadn't done what I did, he would've shot us. I made the right call. Bullshit! What if there are others? You don't know what people are capable of out there. Think again. I just can't. I won't. Just... Not again. Fuck! What is it? What is it? She took them outside the safe zone. They saw someone. You know what that means? Just means... There's a hungry guy out there looking for food. It's happened before. You are overreacting. You can't be serious. You have to go somewhere and talk about this. Oh, madonna. Che potenza, brodo. If anything happens, I'm holding you responsible. You're not responsible. What kind of stuff you have, brodo? Explain it to me. Clem. I know I asked you for help. You did. You did. But... Shit. God. Nothing is easy. It was risky, but it was worth it. Like you said, we can't lose another kid. Hm. Yeah. Yeah, I did say that. Eh, ma sto giocando brutale, vecchio mio, quindi... Well... At least for eating tonight. And for the next few, I'd wager. Se abbiamo l'acqua. Um... I'll go talk to Brody. Thanks for the hall, Clem. You guys, should go enjoy it. You've earned it. That's what I'm doing. Ever since we lost Sophie and Mini, Brody's been freaked out by anything that happens past the safe zone. She'll be alright eventually. Still, we should make sure this is a one-time thing. We can take Rosie out in the morning, see if she catches a scent. You know, just in case. I'm gonna go clean up. No, 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 no. Oh, Yeah, no, 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 vabbè dopo la tua faccia ovviamente francesco grazie per i 28 frantino grazie mille per i sapi esatto non smontiamo le credenze religiose nell'apocalisse già questo è disperato deformato ci manca solamente diciamo che ma ti droghi nel cervello la pappa erasassina grazie per i 4 frantino grazie mille per i sapi ma questo si droga male che cazzo dice ma si tanto il tizio torna vede il disegno sa che sono io ti minaccerai e morirai pazienza ma che carino dice com'è felice il disegno ma per adesso sembra tutto tranquillo me l'ha rapito no ma guarda il tizio io dubito fortemente che sia ancora vivo e se lo è è un po' una forzatura di trama ti dico la verità eh cioè anche perchè chi gli avrebbe vietato di seguirci fino a qua e rubarci tutte le provviste qui che ne so cioè quindi io gli avrei faccia parte di qualche gruppo ed era da solo faccia parte di qualche gruppo ed era da solo non sapranno mai che siamo stati noi potrebbero pensare che sono stati ammazzati come fai a girare il collo così sei una civetta anche te come fai è buono è buono non viaggio a via ma il rancho è buono anche prima il blu questo non è il rancho ti piace? io piace ora che ho appena è buono per ora ma i posti sono cambiati e quindi le persone si esatto neanche questo posto durerà più di tanto non sono abbastanza organizzate la comunità lì a Prescott quella lì la comunità lì quella a Richmond sarebbe potuta durare fino alla fine dell'apocalisse il problema è che ci sono cioè questi sono pochi poco organizzati con poca tecnologia questi durano dureranno il tempo che finisce la cacciagione poi dopo dovremmo levarci dei coglioni e ho letto buona notte buona notte buona notte non lascia un walker e se provano non lascia un walker non lascia un walker come on play it right una volta bang buona lavoro e grazie a nooo si si è spento lo può tre quarti d'ora che fine ha fatto javi è rimasto diventato il nuovo capo della comunità da lì c'è un incubo platislav platislav credo che qualcuno è in problemà è noi no 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 non ora ma dovremmo aiutare se è un monstro dovremmo maturarlo non credo sia non so se è il suo pazzo se è il suo pazzo io non credo rissa esatto anche se secondo me è una rissa pazza questa veniva dal piano di sopra credo adesso in realtà è il professor piton che no il basamento no perchè sempre il basamento qualcuno adesso muore muore sempre qualcuno nel basamento il basamento è il luogo principale col più alto tasso di mortalità in tutti i videogiochi ma io che cazzo non so dove l'entrata al basamento scusami non puoi pretendere che io la capisca hai guardato la mappa ah eccola lì possiedo mattone pisante attenzione ma rompi il lucchetto? ma loro non sentono niente eh? ho appena detonato il lucchetto loro non sentono niente eh? c'è penso di aver svegliato l'emisfero boreale con quelle tramvate che ho tirato eh luce cosa è successo? hai avuto un ictus sulla tastiera cosa è successo? hai avuto un luogo hai avuto un luogo hai avuto un luogo hai avuto un luogo guardami 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 Ok, adesso è arrivato il momento in cui vengono fuori i matti, chi sono i matti, qua ci sarà qualche matto, che adesso dice che è matto, perché sì, io mi sono inculato il cane del nostro vecchio gruppo, che guarda a casa è una comunità di 1600 persone armate di carri d'assedio, bla bla. Ma non mi accecare con gli occhi bro, fino a qui in realtà io già lo sapevo, fino a qua io brodo questo già lo sapevo. Come l'ha consegnato le gemelle? Ma no, aspetta, ero curioso dopo. Vabbè, questo è un po', vabbè, un po' di violenza domestica, ma Marlon la violenza domestica dopo, volevo sapere perché sentivi colpo di? Vabbè, 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 vabbè. No, quello è normale perché la luce è spenta, ma non è per quello, non c'è... Clementine, ricordi? Clem, sei in danger, tu e H.A. Quale danger? Marlon mi matrà se lo dico. Carino che gli abbiano simulato un trauma cranico, se guardate ha una pupilla dilatata e una no, carino nel senso, cioè, questo è veramente l'effetto che hai a seguito di un trauma cranico, l'hanno fatto molto bene in questo senso. C'è scoperto, e quando c'è scoperto, si tratta di freddo? Spero con Marlon, ti ho promesso di questo. Sì, sì, ti avresti, ma sei forte, e non è così. Può succedere, beh, sì. Sì, ma Clem... Sì, ma Clem... Clem, Clem... Clem... Clem ha me gli occhi, Clem, Clem, guardami, Clem. Concentrazione, ti sta dicendo che c'è un tizio che ha consegnato delle bambine alla gente armata per non avere problemi, ti sta dicendo che voi saresti prossimi a essere consegnati. Clem, ora, concentrati un attimo, utilizza i tuoi neuroni, prova a accendere il cervello. Il tizio è lì, dietro di te, tu non lo stai guardando, ed è dietro di te, ed ha una torcia in mano, ed è grosso. Clem, concentrazione, cerca di concentrarti, girati e guarda dov'è per evitare una botta in testa, Clem. Cominciamo a ragionare, perché gli stupidi muoiono in questo mondo. Taleb, grazie per gli otto, ma di no. Ha avuto un orgasmo, ed è morta. Adesso, Clem, è il momento di essere logici. Clem, adesso è il momento. Devi dire, tranquillo, andrà tutto bene, diremo che è stato un incidente, non ti preoccupare, non succederà niente. Appena si gira gli spacchi la testa, Clem. Questa è l'unica cosa che devi fare, Clem. È l'unica cosa che devi fare. Qualsiasi altra mossa sarà stupida. Stare zitti non era una delle opzioni da fare. Ecco perché, Clem, ti ho detto, digli tranquillo, non preoccuparti, non diremo niente agli altri. Hai presente, Clem? Era il motivo per cui ti ho detto di dire... Vabbè, lasciar parte di avanti. Ma è chiaro. Clem, c'è... Dove è andata? Clem, dove è andata? Clem? Ma dai, ma non si può essere trasformata in un secondo. Merda, si è trasformata. Cosa? 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 Sì, ma adesso ti compare davanti, Clem. Clem, devi andare molto piano. Molto piano. Ma cazzo, in un secondo si è trasformata. A posto, va bene, rimane là. Ma cosa? È bloccata. Dai, è bloccata lì. È uno zombie, mica Superman. E la madonna, Clem, c'ha un intero coso addosso, cioè... Ma Clem, però, eh. Clem, però. Eh sì, adesso corrono gli zombie. Dai, Clem, su. Eh, che cazzo! Eh, che cazzo! Aspetta, facciamo... Replichiamo la parte 2. Aspetta che... Eh, facciamo la parte 2. Vamola. Perfetto. Benissimo. Ok, vammola. È un po' rossa la luce, ma è linea di massima. Sta da Dio. Mai stata meglio di così. Sì, ma troppo veloce. Dai, ma non si possono trasformare in un secondo, cioè... Dio. Sì, ma non si può trasformare in un secondo, cioè... Ma dove sta? KJ? Bocca la scuola! Abra la p'tita il proprio psico, a via di me! Dio è she? È in un luogo. È... È in un luogo. Tantati a Brodie! Cosa? È il risalto che c'è? è incredibile ragazzi non so se vi rendete conto stiamo giocando a un videogioco dove il protagonista si difende dalle accuse è incredibile per la prima volta il protagonista dice le cose come stanno in un tipo non sta zitto a dire così e fa è incredibile dai oh maronna parla parla porco dio parla perché stai perché non parli no 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 marlin is this christ you shoot me what do you offer up to your raider friends when they come knocking what the hell is she talking about Sì, prossima volta Clem più veloce, la prossima volta Clem dillo più velocemente, non farlo parlare. C'è, che cazzo, non si ama porta a porta qui dove c'è l'accusa e quell'altro? Non è che dobbiamo rispettare i due minuti canonici di parlata con l'altro in silenzio per non interrompere? Che cazzo arriva adesso Bruno Vespa che dice, complimenti Clem, bella accusa, ma adesso silenzio, diamo due minuti a Parlon per difendersi. Ma che cazzo? Ragazzi è un dibattito da Bruno Vespa, è un dibattito da Bruno Vespa, ha parlato lei, adesso sta parlando lui e lei sta vinta. Siamo a porta a porta, siamo su Rai 1. Questa è un'accusa molto valida, Marlon, bravo, bravo, l'accusa mi sembra sta prendendo piede. Clementine, adesso cos'è da dire la tua discolpa? Vuoi replicare a Marlon? Beh, vogliamo sapere la tua opinione, è tempo per te di difenderti dall'accusa. Marlon, per favore, abbassa la pistola, passate il microfono a Clementine. Avanti Clementine, dici, dici cosa ne pensi. C'è un'accusa, ma che è un'accusa, ma che è un'accusa di un'accusa di un'accusa di un'accusa che si vede e prende? Ma devi credere a me. Ma non! Ma hai già metto un'accusa a due giorni fa! Non lo so, Clem, non lo so. Ma mi sono sconti, non lo so. Ma non lo so. Ma non lo so, non lo so. non lo metterà in your head hey all'estero want you to do she was my friend too so sprody clam I shit it will all feel safer once I pull this trigger I know you know bullshit you can smell it a mile away E io ho scelto lei solo perché ci ho fatto un rapporto E' Lella così? Boh vediamo chi l'ha detto che sono Lella solo perché io ho chiesto solo perché mi ha chiesto aiuto vuol dire che devo sforbiciarla? Non ho capito scusa E vabbò Harvey non te la prenderà male che le femmine si vendono bene E' merce interessante preziosa voglio dire che cazzo vendavamo scusami voglio dire te a te non ti acquistavano neanche se fossero stati cercati voglio dire neanche chi il saldo ti compravano le sorelle Chi muore? Boh lui il fratello delle sorelline I trusted you Marlin, they trusted you A real leader would have sacrificed himself I wanted to get them, Staves, some kind of rescue Honest Ted, I just couldn't, I was, I was too afraid You killed Broni because she knew He didn't mean to Dio Un incidente, oddio Un incidente Oddio Diciamo che incidente è quando inciampi Incidente è quando sbatti Quando scipoli Se spacchi la testa di uno con una torcia Non è un incidente Ha dei problemi di gestione della rabbia Non voglio questo Voglio salvare tutti tutti Sophie Minerva E' inutile adesso cercare di rubare la pistola Adesso Si possesso si suicida Si suicida dai Siamo tutta una famiglia qui Il solo che nessuno ha lasciato Non è un incidente Sì 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 Marlon come la fai Tragica Solo perché hai venduto due persone a dei predoni Ammazzato una compagna Cercato di assassinare me Cercato di sparare AJ Inganato tutti i guardi Pfff Ma di questi tempi è la cosa normale Ma tranquillo Non preoccupare Di questi tempi è la base Cioè Non c'è bisogno di Arrabbiare Just Let me become A bad memory Just give me that Please Fine Ma che cazzo stai facendo AJ Ma che cazzo stai facendo Porca puttana Ma che cazzo vai E adesso io come cazzo li trovo Quegli stronzi Che hanno rapito le tizie Che cazzo Questo sapeva Poteva sapere Chi erano Dove stavano Quanti erano Che armi avevano E adesso Puff Tutte le nostre informazioni Andate a fanculo Perché quel rincoglionito Ad un nano imbecille E ha Alla detonazione Precoce Soffre di grilletto facile Che cazzo Ma che fai Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì E non era uno zombie! EJ, dobbiamo un attimo revisionare, dobbiamo un attimo ripetere le nostre lezioni. Sei abbastanza confuso, EJ, non sei concentrato. Renzo, grazie per i sei, per la tirazione di sapo. Credo che EJ abbia bisogno di una ripetizione. Bocciato! Bocciato! Completamente bocciato! EJ è molto confuso sulle istruzioni da seguire. Porca puttana! Tutte le nostre cazzo di informazioni è andata a fanculo! Per un tempo, per alcun posto, potremmo chiamare casa. Poi quando pensavamo che trovavamo un grande stasso di alimentazione, E' cercando di causarmi una crisi epilettica. E' cercando di causarmi una crisi epilettica. C'è avanzato qualche psicologo post-apocalittico? Questa è una crisi epilettica. 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 che aveva scoperto un anno fa. Marlin ha scoperto le sue sorelle di Tennessee per la ragione dei Raiders, per mantenere il suo sicuro. L'ho attaccato Brody e mi fermato in un basso con lei. Ma il suono... Quello era il suono... Il suono, dang! Eh... Fino a quando... Fino a quando un nano malefico... Fino a quando un nano malefico aveva voluto aprirgli il terzo occhio, il terzo chakra o voleva fargli fare il cosplayer di Tenzing. Sì, ma non erano questi! Sì, ma non erano questi insegnamenti! Adesso, AJ, in camera tua sei in castigo. Ma cosa poverino? Ma cosa poverino? Ma cosa poverino? Niente! Ha fatto un casino quel nano malefico! Ma come poverino? Pfff... Ma non mi interessa che è carino e pacciocoso! Questo non può mica sparare in testa alla gente così, senza... Almeno poteva aspettare e mi desse le informazioni! Poi poteva sparargli in testa! Vabbè, ma il fatto che è carino non è che l'ho tenuto sparare in faccia! No, non ero un incubo! Saremmo andati, che cazzo ne so... 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 Wuhuuu! No, quello è il caffè di merda che bevete voi in America! Il caffè è un Nether Coel! Lasciam perdere! Si? Eh, io non l'ho sentito... Vieni qua EJ, vieni qua! Dobbiamo parlare, vieni qui! Vedi EJ... Purtroppo, delle volte... Bisogna compiere delle scelte difficili! Vedi, nella vecchia vita, nella vecchia civiltà... Se sparavi in faccia una persona, eri un assassino... O... Semplicemente qualcuno... Che salutava sempre... E accompagnava le vecchiette... Portava le vecchiette a attraversare la strada... Eri, potevi essere la classica persona che era... Salutava sempre, sempre sorridente... Eran quelli, gli assassini di una volta... Ma, nell'era post-apocalittica, vedi... Sparare in faccia non è più considerato un micidio... Ma... Un'enorme stronzata... Perché adesso noi non sappiamo più un cazzo EJ... Non sappiamo niente... Il cervello che conteneva le informazioni di quel tizio... Tu l'hai spappolato, l'hai fatto saltare per aria... Ora il cervello di quel tizio ricorda più sbagamente... Il macinato di mio zio... Che usava per preparare lo spezzatino... La domenica sera in famiglia... Quindi non sei tecnicamente un assassino... Sei un coglione EJ... Prendiamo delle medicine... Sono nell'infermieria... Sai... Non credo che l'aspirina curi i buchi in testa... È morto... Il ragazzo si è rotto secondo me... Ma il bastuccio è rotto secondo me... È morto... Sei morto... Sei morto... Sei morto... Hai promisato a Marlin... Hai detto che avessi ai aiutare le cose... Ma che cazzo vuoi da me? Ma io non gli ho mai segnato di sparare in testa ai viventi! Lewis mi chiamò un uccidio... Ma... Ma... Ma dovremmo maturare le cose male... Monsters... Ho fatto male? Non hai sbagliato... Dovevi darci il tempo di parlare con lui... Morca puttana... Non hai sbagliato EJ... Dovevi darci il tempo di parlare... Dove hai sentito... Sparagli? Cioè... Al coglione col sigaro ti dico... Sparagli e ci metti due ore... A questo non te lo dico e gli spari! E' ricavore, cazzo è vero che ti dici... E' un uccidio... E' un uccidio... Lewis non comprende questo... Ma lo farà... E' stato giustificato... E' stato giustificato... Cosa faremo? Tecnicamente... Non ha sbagliato... Ma... Non riesci a capire... Cazzo vuoi? E' oltre che te la prendi con me... Adesso... Ma perchè parli al plurale? Ma io cosa c'entro? Ma perchè te la prendo con me? Marlin ha iniziato questo! Ha uccidato Brody... E ha quasi mi anche! AJ ha fatto ciò che aveva fatto! Ciò che aveva fatto? Ciò che aveva fatto? Non avevano di sbagliare Marlin in la f***a scala! E' stato finito! Siamo arrivati, Lewis... Ma torniamoci, ok? Noi torniamoci? Noi torniamoci? Seriosamente? Oddio... Dipende di che tipo... Dipende che tipo... Che tipo di... 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 Oh... Di... Inizio... E' il problema è che sparate all'improvviso in faccia alla gente, questo spaventa... Che... Sieglie... Di... 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 E' un monstre. Ci vedremo. Ci rendiamo. Per Dio' scegliere, qualcuno mi aiutare con questo! Voi salvare da quella carnetta? Avete f***ing muerto? Voi tornare, Mitch. Voi tornare. O che? Voi lasciare che mi uccidere anche? E allora chi è successo? Un sim? Willy? Non c'è abbastanza di persone oggi? Brody, Marlin, non possiamo continuare a uscire! Ma perché lo dici a me? Ma che cazzo di problemi hai? Ma perché la gente parla con me? Ma che cazzo vuoi da me? Ma... No l'ho ci so da che sono messi! No, l'ho ci sono d'accordo in modo... ma scusate veramente non c'è una linea di dialogo in questo gioco che dice non si ammazza la gente quando si arresa o non si ammazza la gente prima di aver informato non c'è questa linea di dialogo o hai fatto bene o hai torto non c'è questa linea di dialogo sensata tutte cose a caso io non capisco ma la linea di dialogo c'era hai commesso un errore si ma hai commesso un errore cosa vuol dire cosa vuol dire hai commesso un errore vabbè tu è inutile che lecchi il culo tu è inutile che lecchi il culo ma che carino lui ce l'aveva morte gli ha venduto le sorelle lui è lì che si è masturbato stasera che gli ho sparato in faccia ma non è fa culo lui non è che vedete gli ha venduto la sorella cazzo lui è l'unico che è felice che si è preso la pallottola in faccia te voglio dire va bene lui ci credo che è contento che gli abbia sparato nel muso l'unico che è il culo è una cosa che vogliono io lascerò sulle le sorelle non lo necessitano sono morti non saranno quella cosa non è quello che faccio è vero è vero è vero aj scusami sorry aj si hai ragione però oddio santissimo dangrassi per i 16 mattino cazzo sembra Sheldon perchè sembra Sheldon Cooper cioè voglio dire sembra Sheldon non capisce le convenzioni sociali cioè porca troia tra un po' si prende il suo spazio nel divano e dice qui mi siedo io il giovedì è la serata del coniglio arrosto però Clem dovresti spiegargli le cose non gli spieghi un cazzo sto bambino dovresti a parte che potrebbe essere anche abblenato il caffè per quello che ne so io però vabbè io non l'avrei bevuto il caffè per quello che ne so avrebbero anche potuto avvelenarmi ma vabbè ormai l'avevo già bevuto nella cutscene quindi è inutile non berlo ancora Penny 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 prendi il cazzebubbolo hey Jay assomigli molto a tuo padre te lo dico ma non so quanto sia una cosa buona ma perché siamo ancora qui perché siamo qui ma perché è inutile star qui non stiamo qui ci sono dei predoni che ci vogliono rapire questi ce l'hanno con lui sì me ne sono accorto AJ perché siamo qui è inutile star qui cioè non dovremmo stare qui ma dipende potatino perché ti potrei consigliare Elder Ring Baldur Gate per un tipo di gioco ti potrei consigliare dei MOBA come Dota e League of Legends ma dipende capito cioè nel senso dipende molto dalla tipologia del gioco Walking Dead è molto carino Uncharted Lara Croft dipende grazie per decir ma a tiro è che dipende dal tipo Yeah they did I didn't love Marlon Let's just get through this Does everyone get a funeral People do Some animals too Even monsters Marlon did bad things but he wasn't a monster But you told me I was justified Noi sono. Ma Marlin ha fatto un errore. È tutto. 10. Ti sei pronto? No, non. No, non. Non. No, non. No, non. Non. No, non. No, non. 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 No, non. Sì, tranne per il fatto che ha venduto della tizia. Non, non. Sì, vieni ad ora, AJ. Sì, tutti vogliamo senti raccontare il quale ti mati a Marlin. Mi... Mi sono giustificato. Clem mi ha detto. F***, non posso ascoltare questo. Cosa, è... ...c***. È quello che gli ha detto? Che cosa ha fatto è... ...c***? Non possiamo. Sì, non posso. Aspettiamo. Dobbiamo parlare questo. Parlare di cosa? L'ho giustificato il nostro amico! Marlin era una forza a tutti. L'ho giustificato, AJ ha proteggato tutti voi. Come tutti potete esqueci cosa ha fatto a Marlin di Brody? Ma stai sbagliando! Ma è vero? Ma perché devo dirgli... Ma è vero? È vero? C'aveva un notizio che vendeva della gente. Che ha spaccato una torcia in testa a una. Cioè, chi era il prossimo che sarebbe stato venduto? Chi era il prossimo con la testa rotta? Cioè... Chi ha detto che non sarebbe andato dai predoni sarebbe tornato per aver salva la vita? Cioè... Quel tizio lì era una mina vagante! Non gli avrei sparato neanch'io ma non facciamo finta che abbiamo ammazzato un santo, cioè... Ma io volevo già andarmene. Ma io volevo già andarmene. Ma io volevo già andarmene. Ma io me ne volevo andare di base! Io non voglio stare in un posto dove i predoni sequestra la gente. Ma affaculo! Non è sicuro sto posto! Perché siamo ancora qui? Io me ne volevo già andare! Ma perché devo restare qui? Non ho capito! Ma io non voglio stare qui! Ma perché devo stare qui? Ma questo è un posto di merda! Io non voglio stare qui! Ma vaffaculo! Ma non è sicuro! Ci sono i predoni! Quelli vengono! Vogliono comprarci! Se non ci comprono ci sparano in faccia! Poi questo posto sta morendo! Cioè la cacciagione sta finendo! Sono solo dei ragazzini! Non è un posto di merda ma non è un posto valido! Cioè non è un posto sicuro! È un posto per fare una sosta, una vacanzina! Dobbiamo continuare a muoverci! Trovare comuni! C'è quelli che si sono arresi! Abbiamo AJ che ammazza quelli che si sono arresi! Mi arrendo! Bam! Bravo AJ! Sempre sparare quando si sono arresi! Alla mira! Sì era fermo! Cosa cazzo stai facendo? Sì la Stovas è molto valida! E anche God of War spacca di brutto! Secondo me il God of War è validissimo da giocare! Ti divertirai un sacco! Anche della Stovas è molto bello! Te li consiglio entrambi! Andrime di giri! AJ stop! Stai rompendo i miei coglioni AJ! Non ho il piede nel muro! Rebecca grazie per il 24! Valentino grazie mille per i due anni! AJ t'arrivano le sberle ciò che veniva qua! Io ho cercato di raccontarli, ma non si chiedono a ascoltare! AJ respira! Ricordate ciò che facciamo quando siamo arresi? Noi! Non voglio essere arresi! Cosa facciamo quando siamo arresi? Cosa facciamo quando siamo arresi? Ti nozzolo! Grazie per i due, Valentino! Grazie mille per i santi! Adesso diviene un'infisema, adesso diviene un'infisema cerebrale. Non ce la fa a dirglielo. Non ce la fa a dirglielo. Eh, non è che... non è che... Ma io sì. Ma io sì. Resta sicuramente perché ho fatto amicizia con tutti. Figurati. Oh yes, meno male, per fortuna. Non c'è quello che si è già. Non c'è quello che si è già. Sì, abbiamo. Ma io me ne voglio andare, ma me ne voglio... Sì, basta non dargli un'arma da fuoco. Cioè, nel senso... Hey Jay, non è vericoloso. Basta non dargli un'arma da fuoco. Nel senso, è vericoloso gli dare una pistola, voglio dire. Sono bambini, ma anche loro sono ragazzini. Sono dei ragazzini anche loro, cioè... Sono tutti dei ragazzini qui. E questo è il problema di sto posto. ... We'll wait for you to pack up, then Lewis and I will escort you out past the Safe Zone, we'll make sure you get the road safely. It's not a lot, but at least you won't die on the way. Thanks for making sure that we... No! Don't thank them! It's...it's their fault we gotta leave! They're gonna get rid of us. Get him under control AJ, breathe. La gente viene un infisema, rispira piano. Era sconvolto per l'esito del voto. Ma come? Hanno sparato in testa quel coglione che ha venduto le mie sorelle. Io dico di promuoverli a capi del quartiere. E Jay deve essere il capo del luogo. Io promuogo questo. Eh, a tal crad. Ma aveva un solo proiettile. Ma tante scariche, aveva un solo proiettile. Ma in che senso, scusa? Ma no, vaffacule. Ma che cazzo dici? Ma sei fuori, devo andare via, ma è mia, scusa, ma che te la fetta di culo? E' mia, ho bisogno per i monstri. Se io pensavo che solo avessi usato i monstri, non sarei così preoccupato. Sì, dai, non far fita anche te di non sapere... Ma dai, ma vai a cagare anche te. Però tanto non possono aver caricato due cose differenti. Che succede adesso? Non credo che abbiano caricato due... Io penso che questa scelta fosse canonica, sinceramente. Non penso ci fosse l'opzione di restare. Perché altrimenti sarebbero troppo grande, come anche qui, non credo. Oddio, i migliori? Oddio. I migliori? I migliori? E' perché dipende sempre... E' perché dipende dai migliori? I migliori giochi per PS? Oddio. Beh, God of War vale, della SnowBuzz è buono. Ma anche GTA in realtà spacca. Poi... Oddio, che cazzo... E ci sono talmente tanti che... Piccolo aiutino anche a voi della chat? Red Dead Redemption 2 è molto bello. Andre, grazie per il salto, grazie per il salto. Assassin's Creed è molto valido. A me, ma continuiamo... Continuiamo... Domenica, ragazzi. Perché adesso succederà tutto un casino e non voglio perdermi la metà. Quindi continuiamo domenica. Papere, io vi ringrazio per i folli, Cirli e Sabi. Divertimento, le risate. E noi ci vediamo dopodomani, domenica, alle 21 per una nuova live. Io vi auguro tanta buona Anna, per la TV vi mando un abbraccio e un bacione. E noi ci vediamo dopodomani, in live, alle 21. Notte, va bene!